ma che piccolini che sono è il facoccerino forse eh sì, quelli piccoli sì il facoccero piccolo o piccolo, ma anche no dietro alla destra è della cesta è più o meno sulla strada e se ci giriamo sulla strada non vediamo meglio in che senso? bisogna vedere gli alberi che ci sono davanti se noi giriamo un attimo probabilmente la famiglia perché ci hanno anche quello piccolo ma chi ormai ha nascita? ormai ha nascita in effetti sta sventolando le riempie schiacci il pulsante rosso è riuscito a passare, che bello hai visto che ha aperto la bocca? si? è un po' più ruota il ruido dell'aria è condizionata che abbiamo guardato si? si? Sì. Riesci a fare quattro suono? Oh madonna, guarda quanti. Ma sono molto tranquilli. E anche i coccodrilli ci sono. Se lo sarebbe già trascinato nell'acqua. Almeno un paio. Magari. Pensa a filmare una scena così. Io ho desistito da rispondere. Non lo sapevo. Che bestiaccia mamma mia. Se è lì che aspetta, potrà già essere qui. No, pure Saku. Oh. Ho. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.